Al centro sportivo Calverate scontro al vertice nella Serie B Elite di Calcio 11 tra Deportivo Aperitivo e Dopera Team. Primo spunto alla terzo minuto, Riachi per Racis, tocco morbido che lambisce il palo. Poco dopo ci prova anche Vecchiarelli ma la sua conclusione sul cross dalla destra è debole centrale. Per sbloccarla ci vuole ben altro o soltanto un Vecchiarelli in versione Fenomeno che dalla tre quarti da posizione defilata ci regala una magia che porta in vantaggio i suoi. Deportivo che continua ad insistere sfiora tre volte in raddoppio con Racis sia in chiusura di primo tempo che ad inizio ripresa con la traversa piena di Damone. Ma il calcio si sa non ha logica ed allora al primo vero spunto opera la partita torna in parità. Guardiardi serve al centro Giordano che anticipa nettamente il difensore regalando una gioia immenza ai compagni. In più la recupera Riachi cerca il gol impossibile da distanza siderale che però non arriva. E poi il triplice fischio con tanti rimpianti per Deportivo che poteva scalacare Jus Milano ed invece resta immobile al terzo posto. Eccoci qui a fine partita opera Deportivo Aperitivo 1 pari. Siamo qui con il migliore in campo Riachi Jade del Deportivo che con un secondo tempo ad alta intensità e due gol sfiorati si merita senza dubbio il premio. Grazie mille. E questa è la sacca con il gadget dei nostri sponsor. Cosa è mancato oggi per la vittoria? Poca concretezza sotto porta? Esattamente purtroppo abbiamo svelato 7-8 gol tra primo e secondo tempo. Siamo stati belli decisi in mezzo al campo però tanto decisi in mezzo al campo che davanti alla porta poco decisivi. Soltanto l'ultimo tocco diciamo quello per metterla in rete. Io ho fatto il possibile per i miei compagni purtroppo questa volta non è servito. Sì è vero abbiamo giocato contro i primi ma abbiamo nettamente dominato. Questo vuol dire che non abbiamo nulla in meno di loro. Questo è l'importante. Infatti un punto contro la prima classificata quindi secondo te due punti persi o un punto guadagnato? Siamo perso due punti assolutamente sì 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 siamo stati nettamente superiori siamo stati più decisi di loro. Secondo me a un certo punto hanno avuto anche paura di perderla. È arrivato un gol da parte loro su diciamo un qualche rimpallo fortunoso per un cross dentro. Questo è il calcio anche questo purtroppo la sfortuna fa parte del calcio. Perfetto grazie mille ci vediamo alla prossima. Alla Calvarena è tutto a voi la linea studio.